Una Stanguellini Formula Junior del 58, la Monaci B, motore del 59, la De Blanc, sempre del 59. Per chi ama le quattro ruote sono vere e proprie opere d'arte e dunque non potevano che avere un posto d'onore nella mostra a circuito tracciato ieri e oggi, che apre gli appuntamenti della rievocazione del Gran Premio di Bari. La quarta edizione avrà il suo culmine dal primo al 3 maggio, ma per cominciare a respirare l'aria dei boli d'epoca si può visitare questa mostra nella sala Miura a Bari, curata da Flavia D'Alessandro. Qui abbiamo ospite in sala il maestro Enzo Guaricci, che dialoga appunto con le auto d'epoca. Alla fine parliamo sempre di un binomio che ha in comune la passione per il bello, l'estetica e il racconto vuole essere proprio di un circuito immaginario. Tra le chicche il filmato inedito del Gran Premio e documenti delle scorse edizioni tratti dall'archivio Amati. Ce ne sono tanti documenti, ci sono tante gazzette, tante al volante, tutte queste riviste che dedicavano tutto al Gran Premio di Bari davano ampia rappresentazione di tutto ciò che succedeva nel nostro Gran Premio. Questa invece è l'opera di Marco Fabiano, primo classificato del concorso organizzato dalla All Car Club in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Bari per far disegnare ai ragazzi il manifesto del Gran Premio.